Meno di 300 euro per allestire un intero laboratorio di ceramica? È possibile e te lo faccio vedere in questo video. La ceramica sta spopolando alla grande e la cosa fantastica è che non abbiamo più bisogno di un capitale grandissimo per allestire un piccolo laboratorio casalingo. Facciamo un poco la lista della spesa, di che cosa abbiamo bisogno? Sicuramente di argilla, di un tornio se vogliamo imparare a lavorare al tornio, qualcosa per decorare e quindi un ingobbio e degli smalti, e chiaramente un forno per cuocere le nostre creazioni. Ma siamo sicuri di riuscire a spendere meno di 300 euro? Ve lo assicuro, facciamo due conti. Partiamo dal forno. Con 75 euro possiamo acquistare il fornetto magico per cuocere le nostre creazioni direttamente nel forno a microonde di casa. Come funziona ve l'ho spiegato negli altri video che potete andare a trovare sul canale e la cosa bella di questo fornetto è che possiamo iniziare a sperimentare sia argille diverse, sia tecniche di modellazioni diverse, ma anche tecniche di decorazione, ingobbi o smalti. Se non dovessimo avere un microonde a casa, in un mercatino nell'usato con una ventina di euro riusciremo a trovarne uno perfetto per il fornetto magico. Quindi per il momento abbiamo speso 75 euro per il fornetto magico, 20-25 per il forno a microonde e siamo a 100 euro. Passiamo all'argilla. Un panetto da 25 kg di argilla grigia può costare dagli 8 ai 10 euro e per iniziare 25 kg sono davvero tantissimi. Più uno magari di argilla bianca, intorno ai 15 euro. Quindi abbiamo anche speso 25 kg di argilla e siamo a 125 euro. Ho detto chili ma chiaramente volevo dire euro. Chiaramente vi lascio in descrizione tutti i link per i vari acquisti. Ora passiamo al tornio. Questo è il tornio super economico e chi già segue il canale lo conosce già perché tutti i video che giro sul tornio sono girati su questo qui. Sapete appunto che è super economico, che funziona benissimo. Trovate la recensione sul canale, è stato il mio primo video. Questo tornio funziona con la corrente di casa ed è disponibile sia con la manopola che sia col pedale. Io all'inizio consiglio di acquistare quello con la manopola. La cosa bella è che viene venduto su Aliexpress ma da dei fornitori all'interno dell'Europa quindi arriva in pochissimo tempo. Non lasciatevi ingannare dal prezzo così basso perché è veramente una buona macchina che mi sento di consigliare a chi vuole iniziare. E quindi acquistando il tornio per 150 euro più o meno siamo arrivati a 275 euro. Vediamo cosa ci manca. Ci manca qualcosa per la decorazione, quindi possiamo scegliere un ingobbio di vari colori. Costano dagli 8 ai 10 euro, qualcuno magari anche qualcosina in più. E poi acquisterei un chilo di smalto bianco e un chilo di cristallina trasparente. Entrambi per un costo di 5 euro, quindi in totale 10 euro di smalti, 10 euro di ingobbio, quindi altri 20 euro e siamo a 295 euro. Quindi anche un pelino in meno di quanto avevamo pensato. Tra l'altro sul canale trovate anche alcuni video come crearci da soli gli ingobbi e quindi poter risparmiare ancora un po' di più. E anche come mischiare gli smalti per crearne nuovi senza doverli comprare. Per il resto delle cose che ci occorrono, secondo me possiamo trovare un poco tutto già in casa. Per esempio un mattarello e due spessori per lavorare con la tecnica delle lastre, oppure dei pennelli per la decorazione o un taglierino per l'incisione. Ma comunque vi voglio ricordare che gli strumenti più versatili nella lavorazione della ceramica sono proprio le nostre mani. E per fortuna di solito ce l'abbiamo sempre con noi. Avete visto come è stato pazzesco con soli 300 euro poter allestire veramente un piccolo laboratorio di ceramica in casa per iniziare a divertirci? Se poi dopo un po' volessimo chiaramente acquistare qualcos'altro, beh potremmo acquistare altri smalti o altri ingobbi o altre attrezzature. Come al solito se vi è piaciuto questo video sono contentissimo. E se vi va mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei video che pubblicherò sulla ceramica. Buoni acquisti, buona ceramica, ci vediamo presto. Ciao! Grigia da Mente C Grazie! 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 Grazie!